parte forte FC Giorgione una delle favorite per la vittoria finale di questa edizione del Young Boys giocata sul centrale del centro sportivo Agora Fitness di Latina parte forte Giorgione ben vantaggio contro l'ittoria 1932 nei primi minuti per Nasilici uno dei più forti in campo uno dei migliori in campo uno dei talenti da seguire di questo torneo crea un'azione solo da spingere in fondo al sacco per De Bonis che mette la freccia e porta avanti Giorgione Giorgione che insiste ma colpisce il palo ancora con Per Nasilici e poi quest'azione ancora bellissima di Aquilani che crea dalla distanza ci ha provato Edoardo Saccaro non trova lo specchio della porta la reazione è tentata dall'ittoria 1932 che troverà però in Chinchio un muro quasi insuperabile e poi Per Nasilici dalla distanza il destro a girare non trova lo specchio della porta adesso attenzione perché questo è un grandissimo gol messo a segno da Aquilani dalla distanza non vede partire la palla Costanzi si insacca sotto l'incrocio dei pari un grandissimo gol uno dei più belli visti finora in questa edizione 2013 dello Young Boys torneo riservato ai giovani calciatori pontini del comprensorio puntino e non solo provengono tutta tutto il Lazio i giocatori che stanno prendendo parte a questo torneo Chinchio in due tempi laborioso il suo intervento riesce comunque a dire di no alla conclusione del vittorio 1932 poi ci prova a Soncine che trova il palo doppia conclusione parata agevole per Chinchio Giorgione prova a chiuderla ma trova in Costanzi un'ottima risposta Costanzi che per due tre volte adesso sarà decisivo e salverà il risultato in favore del vittorio 1932 che proverà a spingere nel finale ma c'è ancora spazio per le conclusioni della distanza di Aquilani ancora una volta Costanzi nel finale di scara accorcia le distanze ma sarà inutile il gol di Di Vito tre punti ad FC Giorgione grazie a tutti Grazie a tutti